Ciao Tommy Cosa vuole? Mari Canardi si ricorda? Sono una giornalista Ci siamo conosciuti cinque anni fa Tommy come stai? Ma non ha voglia di raccontare qualcosa A chi l'ha accusata per tanti anni? Io sono cinque anni che dico e sono innocente Siete voi che non l'avete mai scritto Tutto bene, mamma Tommy tesoro, sei contento di essere tornato a casa? Sei felice?